Benvenuti all'angolo di pagine d'autore, una rubrica per entrare nel mondo dei libri. Gli uccelli lo stanno a sentire, aprendo appena all'oscuro della carrozza, ridosso dell'occhio, lo vedo, sta solo, ritto in mezzo al prato e con le braccia fa gesti d'aria. La gente si tiene alla distanza, sparsa come i muschi delle pietre, come l'erba, si sta tutti in silenzio perché la cosa è strana a vedersi. Me l'avevano detto e non volevo crederci, c'è un matto che predica gli uccelli. A Roma di matti che predicano ce n'è per tutti i gusti e le misure, ma questo predica gli uccelli come uno stregone di campagna. E allora qual è la novità? Che gli uccelli lo stanno a sentire. Lucia Tancredi è l'autrice di Jacopa dei Sette Soli, la ricca amica di Francesco, edito da Città Nuova. Lucia Tancredi è una scrittrice molto raffinata che sa scatenare dal cuore le emozioni più profonde. Per Città Nuova ha raccontato due mistiche, io, Monica, le confessioni della madre di Agostino e il De Garda. Ha scritto numerosi romanzi pubblicati dalla casa editrice Eve, di cui è anche la fondatrice. Ha pubblicato diversi racconti sul viaggio e lo spaisamento dedicati al Gargano, allo sferisterio di Macerata e alla marca maceratese. Avete appena ascoltato l'incipit di Jacopa dei Sette Soli, che non è soltanto l'amica e la protettrice di Francesco, ma è una delle declinazioni del femminile sacro. Questa matrona romana dalle trecce bionde, ricchissima e padrona del suo destino, instaura con Francesco un'amicizia fondata sull'amore, che è una valorizzazione e un'accettazione delle reciproche diversità, alterità come complemento e bene spirituale. La voce di Jacopa nel romanzo si fa strada e diventa un inno all'amore. Del resto ce l'aveva già raccontato San Francesco, Francesco che di amore e di pace se ne intendeva. Lui che ha cantato Le meraviglie del creato è stato il cantante, il cantautore, l'autore che ha inaugurato la nascita della letteratura italiana. E ancora lui che a distanza di tanto tempo continua a trascinare folle di gente e a fornire le giuste risposte. La storia di Jacopa è una storia per tutti, per chi ama le biografie al femminile, per chi è in ricerca, per chi ha sempre fame di cose belle. E Lucia Tancredi riesce a rendere la storia di Francesco più che mai attuale. Attraverso lo sguardo femminile tutto diventa cortese, cavalleresco, tutto tremendamente reale. E la storia di Jacopa è una storia fatta di semplicità, di piccole cose, anche i contorni storici, l'incontro con Madonna Povertà che spaventa ieri come oggi. Ma Francesco non si è spaventato e non si è fatto verme tra i vermi, ma creatura tra le creature. Jacopa lo guarda, lo segue, lo ammira. E' ancora Jacopa che ognuno di noi trova la propria pezza, proprio come quella usata da Francesco per ramendare il suo saccone e la vita degli uomini. Una catena di solidarietà, di amore e di amicizia accompagna tutta questa storia. Troviamo tanti personaggi, troviamo Elia, Masseo, Leone, le povere signore, Cuoca, Balia e tanti altri. Ma a Jacopa, anzi a frate Jacopa, il compito di unire gli anelli di tutta questa catena fino alla fine. E allora non mi resta che augurarvi buona lettura con il libro di Lucia Tancredi, con Jacopa dei Sette Soli. E se volete seguitemi sul mio blog www.paginedautore.it oppure scrivetemi alla mia mail o ancora sui social Facebook ed Instagram. Buona lettura. Grazie. Grazie a tutti.